benvenuti nel canale meli made in sud come avrete letto dal titolo oggi voglio parlarvi di una combo barra triade top che ho scoperto nell'ultima settimana barra dieci giorni di cui mi sono follemente e dico e sottolineo follemente innamorata prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su instagram con il nick meli made in sud trattino in basso official vado al dunque vi mostro subito i prodotti che verranno mostrati mentre parlo quindi non vi preoccupate tutto scritto all'interno del video il prodotto principale da cui è nato l'idiglio il primo idiglio è questo rossetto stick in stick di essence io non acquistavo essenz da tantissimo tempo poi nell'ultimo periodo ho visto lo stand meravigliosamente completo curato da upim e mi è scattata così una una cosa nella capa per cui mi son detta no assolutamente voglio provare i prodotti essenzio voglio riprovare prodotti che ho acquistato ho preso questo nuovo rossetto in stick se riesco vi metto anche le foto delle altre colorazioni ci sono diverse colorazioni la linea degli dei rossetti e slim stick 6 ore long lasting lipstick i dettagli grammi prezzo sempre qui in sovraimpressione il marchio appunto essence io ho preso la colorazione baby got blush numero 104 azione 104 baby got blush questo è lo stick si presenta in questo modo è un color malva bellissimo bellissimo magari dalla videocamera sembra più caldo in realtà scusate un color malva perfetto un colore nude perfetto per chi ama le colorazioni neutro fredde cosa mi è piaciuto di questo stick la confortevolezza si applica che scivola è una bellezza è molto confortevole è idratante io non sopporto i rossetti stick i rossetti matt le formulazioni matt le detesto e soprattutto credo a parer mio io parlo sempre su di me che invecchiano terribilmente invece le labbra polpose rimpolpate glossate sono tutta un'altra cosa danno proprio quella allure di di freschezza e anche di raffinatezza senza esagerare ovviamente senza esagerare poi dipende sempre ecco dal tipo di gloss quanto viene applicato se è sottile se non è sottile se è brillantinato se è new insomma i fattori però ci siamo capiti magari mentre parlo vi metto delle fotografie per farvi per farvi capire questo mi ha sorpresa perché è leggermente opaco ma non è secco non è asciutto anche proprio a livello visivo e risulta essere confortevole anche se vado ad applicare sopra un lip gloss o esempio anche un balsamo labbra insomma un altro prodotto al di sopra che va a rendere la formula visivamente più lucida più effetto rimpolpato durano tantissimo non ho visto la resa dopo il pranzo dopo la merenda perché non ho avuto proprio la situazione per poter testare il lo stick ma ecco io non ho l'esigenza di tenere su un prodotto labbra per tantissimo tempo quello che vi posso dire che per tre quattro ore cinque ore dura che è una bellezza io lo amo mi piace tantissimo voglio vedere se trovo altre colorazioni neutro fredde perché a me i colori caldi non piacciono soprattutto non mi piacciono neanche come come mi stanno è bellissimo costa pochissimo sicuramente costa al di sotto di cinque euro ma ha una resa pazzesca se avesse un'altra confezione potrebbe tranquillamente tranquillamente essere di una marca super lussuosa come dico sempre bisogna analizzare prodotto per prodotto le case cosmetiche come ha detto ampiamente spiegato ammirevolmente beatrice mautino mi metto il link giù magari ve lo fisso in alto come messaggio le case cosmetiche più o meno sono tutte le stesse no più o meno sono tutte le stesse girano c'è il gruppo x che produce un tot di marche idem un'altra azienda che produce un tot di marche questo sì come mi ha scritto anche una ragazza un capello come ha scritto una ragazza sotto il video non mi ricordo forse quello del siero dove parlo no forse del video all essence dove lì appunto io dico non bisogna guardare il prezzo ma bisogna guardare il singolo prodotto questa ragazza scusami se non ricordo il nome ha detto melania io ormai compro tutto lo costo perché le aziende sono tutte le stesse sì è vero che le aziende sono tutte le stesse come dice anche beatrice mautino lo spiega egregiamente però i prodotti non sono tutti gli stessi bisogna controllare la formulazione e soprattutto bisogna provarli non c'è niente da fare bisogna provarli bisogna testarli e poi ciò che piace a me ciò che sta bene a me ciò che adatto a me può differire da un'altra persona quindi fin quando non si provano i prodotti non sono tutti uguali ok quindi vengono prodotti ma non sono tutti uguali la lista ingredienti è quella che fa la differenza perché le formulazioni sono differenti chiusa questa questa parentesi riferimento a questo che è un prodotto favoloso meraviglioso e io ve lo stra stra consiglio e poi ho utilizzato per contornare vedere vedrete dopo l'applicazione la matita nabla va già fatta una capatando questa matita nabla close up shaper la mia è nella colorazione nude asterisco 2 punto asterisco cancelletto flavia me l'ha fatto notare in qualche dove dove ho parlato di questa matita hai ragione la piuccia asterisco 2.5 è un nude perfetto un nude freddo perfetto questa è una comba fotonica questa costa di più rispetto a una matita essence però io mi sono dimenticata di acquistarla recupererò in questi giorni però ecco se avete in casa una matita già neutro fredda e la sposate con questa colorazione l'idio è favoloso e poi ho applicato un velo di gloss questo è l'extreme shine sempre di essence il nome si è cancellato ma è un purple e qualche cosa ve lo metto qui il nome ed è bellissimo è un gloss glos dal tono freddo questo non è neanche neutro questo è proprio freddo ci sono diversi glitterini all'interno ma sono micro sottilissimi non si sentono sulle labbra e super confortevole non migra bellissimo anche questo è molto molto bello mi avvicino e vi faccio vedere il risultato adesso vi lascio all'applicazione vado a rimuovere il balsamo labbra mi sa che metto un cerchetto così non ho i capelli in avanti ero indecisa se utilizzare la matita o meno perché mi sono dimenticata di acquistare una matita essence quindi cosa vado a fare vado a contornare leggermente le labbra con la matita nabla non ho i capelli in avanti ho i capelli in avanti purtroppo lì in videocamera i colori sono più caldi in realtà questo è un neutro freddo bellissimo io non sbordo perché ho già le labbra carnose infatti è un motivo per cui non metto spessissimo la matita perché la matita le enfatizza ancora di più sembra marrone, in realtà è malva bellissimo, bellissimo, bellissimo unica cosa, la matita non la vado a mettere seguendo l'arco di cupido arrotondo leggermente, ma proprio leggermente con un effetto super super naturale stupendo, veramente stupendo Melania ma il pennellino si sporca, come fai? riprendo lo stesso tovagliolino che ho utilizzato prima per rimuovere il balsamo labbra e lo vado a pulire prima tolgo l'eccesso in questo modo e poi vado a premere delicatamente e fare questo movimento verso l'alto così da andare a rimuovere il pigmento del rossetto così il gloss non si sporca una triade bellissima, molto fine, molto raffinata l'unica cosa, vediamo se riesco, vi metto una foto dell'effetto del colore reale perché la matita, il rossetto ed il gloss sono neutro freddi invece qui virano al marroncino sono sicuramente le luci che fanno questo effetto ma è molto molto fine e raffinato come dico sempre, minima spesa, massima risa la cosa che costa di più è la matita o potete prendere questa di Nabla per qualità, io le adoro sono tra le mie matite labbra preferite in assoluto già ve ne ho parlato ma potete utilizzare una matita neutro fredda che già avete a casa oppure se volete spendere ancora meno potete provare ad acquistare una di Essence con cui mi trovo bene però non hanno per quanto mi riguarda la stessa resa di queste di Nabla avete visto? che triade pazzesca vi ho tirato fuori e ce ne saranno molte molte altre oggi mi voglio specializzare nella combo ho provato una combo meravigliosa anche in casa Kiko fatemi sapere della linea sia il gloss appartiene agli Hydra è qualche cosa comunque ve li metto qui e ha le matite di questa linea quindi non sono le matite smart proprio quelle costo base però sono delle matite molto buone anche quelle di Kiko comunque è una combo bellissima ce l'ho conservata così nella tasca fatemi sapere proponete un marchio di cui volete vedere una combo favolosa pazzesca per le labbra e io vedrò di accontentare spero soprattutto di avervi tenuto compagnia io vi mando un abbraccio vi auguro un sereno weekend anche se sta per volgere al termine vi ricordo che mi trovate su Instagram quel nick meli made in sud trattino in basso official e come sempre un bacio un abbraccio un tarallino dalla vostra meli made in sud e come sempre un bacio